Domenico Aliperta, ad Arezzo una nuova stagione dopo due campionati vinti, qual è l'ambizione che ti ha portato ad Arezzo? L'ambizione è stata quella di venire a una piazza per me importante, che ho avuto la possibilità di affrontare una volta e gioire anche in questo stadio. Sono legato a qualche ricordo positivo che mi ha portato qui. Sapevo l'ambizione di questo club e io cercavo questo. Se non dovevo andare in Lega Pro, volevo restare in Serie D, però con un club che avesse l'ambizione di tornare nei professionisti. Quanto è difficile, tu che hai l'esperienza, vincere un campionato di Serie D? Io penso che vincere il campionato di qualsiasi categoria è molto difficile, con il Serie D in maniera particolare perché magari vince solo la prima, perché magari c'è l'obbligo di far giocare comunque quattro giovani, quindi magari puoi ritrovarti con dei ragazzi che hanno inizialmente qualche difficoltà nella categoria perché sono così giovani che non hanno avuto alcuna esperienza. Quindi il processo di crescita deve essere veloce e la difficoltà sta proprio quello nel gestire questi momenti negativi con i più giovani e i meno giovani e calarsi subito nella parte perché è una categoria che non aspetta e quindi hai bisogno di avere un gruppo coeso, un gruppo umile e consapevole. Com'è in questo mese di lavoro l'allenatore e il gruppo? Coeso, c'è voglia di… No, no, noi stiamo cercando di conoscerci sempre meglio anche fuori dal campo, che è la cosa più importante per creare comunque delle armonie interne, quindi stiamo condividendo molto. Con l'allenatore è uguale, nel senso che comunque in campo lui pretende tantissimo e abbiamo avuto anche la possibilità di stare insieme anche fuori dal campo, quindi cerchiamo di conoscerci soprattutto caratterialmente perché ci sarà sempre il più buono, il più cattivo, il più permaloso, il più paziente. Prima noi iniziamo a conoscersi e più veloce sarà il processo di crescita. Tu hai giocato con un ex amaranto sabatino, ti aveva parlato di Arezzo oppure… Sì, sì, no, Sergio mi ha consigliato di correre ad Arezzo perché lui è innamorato della piazza, quindi so che è anche la piazza degli ottimi ricordi con lui, quindi i suoi consigli sono stati inequivocabili, unicamente affascinato dall'idea di questa piazza, alla quale già io avevo qualche sensazione positiva, diciamo così, e quindi non è stato facile scegliere. Grazie.